musica 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 eravavale eravamo andati insieme in montagna a scopare rilegato in canzone umana e scritto col saas quell'antico testo sumero e merda pura e riportava formule per la resurrezione dei casi musica 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 Misturatevi le palle. Vedete questo? Questo è il mio cassone di tuono. Lo si trova nel reparto scocci e attrezzi sportivi. Questo adorabile ma terribile aggeggio ha il calcio in noce, le canne di acciaio blu cobalto, ha il calcio in nu cobalto, le canne di acciaio in noce e un grilletto sensibilissimo. Sesso. Signora, temo di doverle chiedere di uscire da questo ristorio. Che diavolo sei tu? Mi chiamo Ash. Buon anno. Aaaaaaah